Buongiorno, sono Ramdane del Santuario per la Pace e l'Unificazione Italia. Il tema di questo clip video è Gesù inizia il suo ministero, come sottotitolo Pentitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Leggiamo Matteo 4, 17 Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire Ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Quando dite di credere in Gesù, credete soltanto alle cose che vi fanno piacere e fiutate quelle cose su Gesù che vi fanno stare male, dovremmo accettare quello che Gesù ci ha insegnato a fare e le cose che Gesù stesso vorrebbe che noi facessimo. Non dovremmo partecipare a cose che a Gesù non piacerebbero. Quali sono le cose che non piacerebbe a Gesù? Sono semplicemente Satana e il peccato. Dovremmo separarci da Satana e dal peccato e credere in Gesù da questa posizione, anziché da una posizione nella quale il peccato, Satana e Gesù sono tutti mescolati insieme nella nostra vita. Ecco perché Gesù disse Pentitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Ma di che cosa dovremmo pentire? Dovremmo pentirci del fatto che abbiamo vissuto insieme a Satana e al peccato nel corso della nostra vita. Una volta che ci siamo pentiti e ci siamo separati da Satana, Gesù ci spinge a credere in Dio e a servirlo. Gesù voleva dominare su un mondo dal quale Satana e il peccato erano stati estirpati. Non un mondo nel quale Satana è mescolato ad ogni cosa e nel quale l'uomo ha solo una vaga fede in Gesù. La missione di Gesù era di separare completamente gli individui da Satana e dal peccato e di separare poi le famiglie e le nazioni da Satana e dal peccato. Persino il cristiano più devoto o la Chiesa più virtuosa sulla Terra non possono proclamare con orgoglio di essere assolutamente separati da Satana e dal peccato e di seguire Gesù esattamente come lui vorrebbe che facessero. Nessuno può dire che sta vivendo nell'amore perfetto in un mondo ideale senza sofferenza né lacrime. E questo significa che Satana esiste tanto nelle Chiese come da qualsiasi altra parte. Inoltre c'è quasi tanto peccato là come nel resto del mondo. Se questo è vero e se quello che le persone di Chiesa amano e odiano non è diverso da quello che ama e odia il resto del mondo allora tra il mondo e la Chiesa non c'è tanta differenza. In che cosa trova più piacere Satana? Nella Chiesa o nel mondo? Perché gli piacerebbero di più i peccati della Chiesa che quelli della società in generale? A Satana piacciono di più i peccati della Chiesa perché può protestare con Dio dicendo «Guarda quelle persone nella Chiesa, non amano il prossimo, odiano addirittura il prossimo, non sono neanche fedeli, questa deve essere la mia Chiesa». Queste parole sono dal discorso di Son Myon Moon come tema «La perfezione della restaurazione tramite indenniso per mezzo della responsabilità umana». Marzo 1983. Ebbene, Gesù ci chiede di rinascere. Ci dice «dovete rinascere». Leggiamo Giovanni 3, 1, 10. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli veni di notte da Gesù e gli disse «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù le rispose «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse «E come può un uomo nascere quando è già vecchio? può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». E Gesù rispose «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito». Dunque la Bibbia racconta della visita a Gesù da parte di un fariseo chiamato Nicodemo, il quale chiese come possono essere salvate le persone. La risposta di Gesù fu molto chiara. Se un uomo non rinasce non può vedere il regno di Dio. Nicodemo rimasse molto perplesso e disse «Ma come può un uomo nascere nuovamente quando è già vecchio? Può entrare nel grembo di sua madre e rinascere?». Allora Gesù gli risponde «Tu sei un dottore di Israele, eppure non capisce questo?». Ognuno nasce nella discendenza caduta di Adamo, nella posizione di nemico di Dio. Come possono gli uomini diventare anche solo dei servi, dei servi che non hanno origini sataniche? C'è qualche modo in cui potreste rinascere come un servo dal lato di Dio? Se non sapete fare neppure questo, allora come potete rinascere come figli di Dio? Dunque raggiungere il livello di un servo dal lato di Dio è solo lo stadio iniziale della restaurazione. Ma un servo non può ereditare le richesse del padrone. Un servo non ha nessuno diritto di ereditare. Perciò ogni persona ha bisogno di essere elevata almeno alla posizione di figlio adottivo, o meglio ancora, di figli e figlie di Dio. Cosa è che deve essere restaurato all'origine? A causa della caduta della nostra stessa origine, noi ci troviamo in un posto diverso in cui dovremo essere. Essere restaurati all'origine significa rinascere. In altre parole, poiché siamo nati dai genitori caduti, dobbiamo rinascere dai genitori che non sono caduti. Questa è una cosa assolutamente necessaria o solo una specie di necessità. Come potete provare che l'umanità è caduta? Molte persone non credono a questo e pensano, gli uomini sono sempre stati così. Questo è il modo di essere che Dio intendeva per il mondo e l'umanità. In effetti, soltanto i cristiani credono fermamente che gli uomini sono caduti. Le altre religioni non ci credono. Nel cristianessimo la caduta è un insegnamento fondamentale, mentre le altre religioni non prestano molto attenzione a questo. Tuttavia, è un fatto di estrema importanza. Quale è la causa della caduta? La Bibbia insegna che i nostri progenitori mangeranno il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. La Bibbia è assolutamente necessaria e noi dobbiamo astenerci alle sue parole. Cosa intende dire la Bibbia con il mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? Cosa hanno fatto Adamo e Eva di così grave da indurre Dio, il loro genitore d'amore, a cacciare i suoi figli e figlia da casa sua? L'enormità del problema che ha generato significa che doveva essere un frutto molto, ma molto prezioso. Più di una mela oppure di un'arancia. Se avrebbero mangiato letteralmente un frutto, lo avrebbero fatto usando le mani e la bocca. Le mani e la bocca sarebbero state le uniche parti del corpo usate per commettere peccato. Ma la Bibbia cosa dice che si coprirono dopo aver mangiato? Si coprirono le parti basse del corpo. Guardate cosa fanno i bambini. Ogni volta che un bambino fa qualcosa di sbagliato, lo esprime. I bambini sono onesti per natura. Se la mamma dice non mangiare quella cosa, ma il bambino la mangia lo stesso, e poi arriva la mamma e affronta il figlio, cosa fa il bambino automaticamente? Nasconde le sue mani. Non nasconde le sue parti basse. Avete mai visto un bambino nascondere di riflesso le sue parti basse dopo aver mangiato qualcosa che non avrebbe dovuto mangiare? Le persone non si comportano così. Questo è abbastanza semplice e facile da capire. Ecco un'altra prova che deve essere stata convolta la linea di sangue. Dio ha desiderato ardentemente, soffrendo per migliaia di anni, di correggere il lineaggio. Se il problema fosse stato causato semplicemente del fatto del mangiare una certa sostanza, Dio avrebbe trovato facilmente un rimedio per questo. Eppure, non importa quanti sforzi facciate per correggere voi stessi, quanto duramente lavorate per correggere questo o quella debolezza o per smettere di fare certi peccati, o persino correggere dei difetti del vostro carattere, non potrete mai cambiare la vostra linea di sangue. Non potete fare nulla riguardo al sangue che scorre dentro di voi. Non può essere semplicemente ripudiato. Dunque potreste tagliarvi un braccio. Affinché il sangue malvagio scorre nel vostro corpo, un'altra parte di voi commetterà peccato. Arriviamo subito alla conclusione che le origini del male derivano da una discendenza malvagia, da una linea di sangue sbagliata. Il sangue che scorre in tutta l'umanità, in tutti gli individui, è un sangue malvagio. Non possiamo dire che è il sangue perfetto di Dio. In altre parole, la discendenza caduta è il sangue di Satana. Noi abbiamo ereditato il sangue di Satana. Questo significa che il vostro corpo è di Satana. Possiamo immaginare che se gli antenati dell'umanità non fossero caduti, oggi il sangue di Dio scorrerebbe in voi e in ogni altra persona intorno a noi. Se fosse successo questo, ogni cosa apparterebbe a Dio. Non esisterebbero cose come il male e non ci sarebbe nessuno Satana. Dio, in origine, possedeva quella radice, quella verità e quello germoglio centrale. Questi contenuti sono ciò che unisce ogni essere umano. Ciascuno di voi è come un ramo. I rami automaticamente sono collegati al tranco che è Dio. Il frutto non ha le stesse dimensioni del ramo, però tutti sono uguali in un albero. Voi siete il frutto di Dio. Questa è la conclusione naturale e originale. Siamo tutti i rami di un albero, ma non è l'albero di Dio, è l'albero di Satana. Che tipo di frutto è nato dall'albero di Satana? Il frutto di Satana. Dovremmo capire chiaramente questo. Questo è il motivo per cui siamo tutti d'accordo che l'umanità ha bisogno di essere salvata. Cosa vuol dire essere salvati? Essere salvati vuol dire percorrere la strada all'indietro dalla radice che ha commesso qualcosa di sbagliato ed essere riportati alla posizione dove l'uomo non è caduto. Noi ritorniamo al punto prima della caduta. Anche questo contenuto e dal discorso di Son Mion Moon ha come tema la restaurazione dall'origine e la rinascita sono per me stesso, il 20 settembre 1992. Dunque, il bambino Gesù fu concepito da Maria senza peccato. Ma in tutti gli altri casi Satana può reclamare il possesso di un bambino, perfino prima ancora che nasca. Ma non fu così nel caso di Gesù, perché Dio aveva preparato una nuova genealogia per mezzo della quale Gesù fu concepito senza peccato. Gesù fu l'unico in tutta la storia la cui nascita fu preparata in questo modo. Egli fu concepito nella discendenza di Dio e nacque come un figlio di Dio e poteva proclamare Io sono l'unigenito figlio di Dio. Nessuno santo o profetta è nato in quello modo. E' più che logico che dichiarasse Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non attraverso di me. Dunque, una volta che sapete questo, c'è qualche altra strada con cui raggiungere Dio. Gesù disse anche Io sono nel Padre e il Padre è in me. Gesù è nella posizione di Padre, ma per poter ritornare all'origine stessa della vita, il processo della nostra rinascita dovrà essere assistito dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo insieme allo Spirito di Gesù portano la rinascita. Poiché siamo nati in un modo sbagliato, mediante dei genitori satanici, dobbiamo passare attraverso questo nuovo canale per diventare una nuova creatura. Da questa prospettiva, lo Spirito Santo è lo Spirito Madre. Questo è il motivo per cui la Bibbia dice che non possiamo rinascere fin tanto che non riceviamo lo Spirito Santo. La rinascita avviene nel punto di convergenza dell'amore del Padre spirituale Gesù e della Madre spirituale, lo Spirito Santo. Anche questo contenuto è dal discorso di Son Muen Moon, che è senza titolo, del 19 marzo 1972. Siamo arrivati alla fine di questo clip video. Io vi ringrazio per il vostro tempo e arrivederci. Io vi ringrazio per il vostro tempo e vi ringrazio per il vostro tempo e vi ringrazio per il vostro tempo.